musica 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 hola ragazzi sono il mitico caso il modesto caso il modesto caso e sono qua con Alex Kaos e sta lagando di brutto perchè cazzo mi lagato di comunque sta lagando su killing floor questo è ovviamente un video aggiornamento perchè siamo su killing come sapete su killing ci sono i video aggiornamenti lavati dai coglioni ti ho fatto ho fatto un headshot dal tuo collo praticamente ho sfiorato il tuo collo e comunque che cacchio dobbiamo dire essendo un video aggiornamento dobbiamo aggiornare quindi innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli iscritti che si sono iscritti di recente anche quelli che ci seguono da parecchio sul canale tutti gli iscritti praticamente voglio salutare tutti gli iscritti grazie a tutti per seguirci ancora e per fare tutto quello che fate per fare donazioni siamo già arrivati ma che donazioni non ne vogliamo donazioni però se proprio dovete no vabbè non vogliamo donazioni per il momento poi appena allenare ci appena allenare ci vorrà far pagare di più ci serviano soldi no vabbè essendo un video aggiornamento basta cazzate e aggiorniamo alex vi dirà tutto quello che c'è da dire prego alex allora non ero preparato da cosa iniziamo possiamo dire che partiamo dalle cose nuove o dalle cose che dobbiamo continuare no le cose nuove è qua dentro comunque eccolo qua ragazzi questo è il trade qua si comprano le armi eccetera dai di di aspetta aspetta ok allora le cose che dobbiamo continuare dobbiamo continuare e si spera a finire la ocean giusto si poi cosa dobbiamo continuare dobbiamo continuare il mitico e inimitabile Dungeon Explorers ragazzi che noi noi lo facciamo raramente per una motivazione ben precisa non la diciamo però siccome noi giochiamo in un server durante i video e noi utilizziamo bookit e il problema è che con tutti questi nuovi aggiornamenti di minecraft bookit doveva essere aggiornato e noi siamo legati a questo se bookit non viene aggiornato noi non possiamo fare il server e di conseguenza giusto giusto ti stai già dilungando troppo però zio non è che vabbè poi ok è una è fatta poi poi dobbiamo continuare si o c'è un dungeon explorers continuare cos'altro continuare continuare mi sa fare bastante scu secondo qualcosa lo sento poi vabbè perché vogliamo iniziare in sostituzione all'arte diciamo anted the demon forge che è un gioco giocabile in 2 la campagna giocabile in 2 ed è un hack and slash porca puttana è un hack and slash d'azione ambientato più o meno nel medio asolo ci sono draghi in striscia draghi non ce ne sono non mi sa eh o meglio non me lo ricordo lo sai adesso mi ha dato un dubbio non lo so veramente non c'ho giocato vabbè comunque e poi caso inizierà presumo un'avventura un'altra avventura in single player su minecraft no allora devo iniziare un su un survival e un survival come cazzo si dice vabbè comunque si quello dobbiamo dobbiamo cominciare cioè devo cominciare il single player poi dovermo iniziare un'altra mappa su minecraft in sempre survival credo non lo so tutti assieme e poi che altro cacchio dobbiamo cominciare e poi l'ultimo ma non l'ultimo aspetta vediamo eh poi devo fare il risen 2 il gameplay completo addirittura devo fare anche il gameplay completo di binary domain se ci riesco eh 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 grandi progetti praticamente e devo finire anche spyro devo finire vabbè è vero c'è da finire spyro e se finisce spyro vi prometto che io inizio ctf ok quindi io finirò spyro entro questa settimana così alex dovrà mettersi a fare ctr a forza eh ok o comunque server pieno di gente si si ma ce l'abbiamo stessa comunque ultimo posso dirlo ma non l'ultimo questo nasce da una mia idea modestamente io non so neanche di cosa stai parlando sinceramente vai modestamente no non rinegarmi per favore perchè poi mi penso dai dai siccome siccome caso come è già stato detto per chi non lo sapesse comunque è un veterano è un veterano di wow ah è vero è vero è vero per cazzo sei finito non lo so ti ho perso comunque essendo caso un veterano di questo gioco a me è venuta la brillante idea questo mi sta uccidendo di 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 iniziare a giochi chiare diciamo in un server fan con l'esperienza con l'esperienza c'è il boost c'è il boost di esperienza mi sa che ho quadruplicato o deciplicata no no decaplicata decaplicata eh comunque c'è molta esperienza c'è quindi diciamo che livelleremo in fretta giusto per farvi vedere quanto sono un hub io probabilmente non ci sarò solo io saremo in due in abbi e quanto caso è esperto in questo gioco è esperto in materia in pratica due classi due o tre classi da zero sino all'ottanta spero se non ci stanchiamo prima no non ci stanchiamo non ci stanchiamo prima dice il caso per cui questo più o meno è la totalità degli aggiornamenti se non ci ammazzano prima no no perché stiamo giocando a difficoltà principiante perché dovete sapere che già al normale in questo gioco si bestegna si soprattutto in due non fate un cazzo il normale quindi neanche in sei si fa niente quindi si c'è già in sei cominciamo a se ci devono essere persone che sanno giocare ma che cazzo è ok se non avete se non siete in sei bravi non ce la fate a fine resti neanche il livello quindi ehm a meno che non siete super pro anche in due ma che cazzo allora è andato a fare il numero e non lo so abbiamo finito così con gli aggiornamenti mi pare ho entrato un tizio che si lo riesco ed è già morto come possibile ehm si altro da dire mi sa di non sa che abbiamo finito quindi praticamente un casino di nuove serie sono per arrivare sul canale state sempre aggiornati qua il vostro sexissimo ho detto delle vostre famigliare guardate quanto è brutta la tipa aspetta che sto comprando ok non posso comprare niente ho quanto è brutta che schifo amori cazzo ma come è poche sembra un pokemon strano non lo so perchè sembra dito di faccia dito di faccia dito ok vaffanculo ehm ragazzi si le aggiornamenti sono finiti qua credo se abbiamo altro da dirvi boh ve lo dico nei commenti che zonessa a sto punto ormai ci stiamo ci stiamo abituando a dimenticarci che cosa dire nei commenti quindi si finito vorrei lasciarvi a 2-3 minuti di video silenziosi no ganigel non ne voglia eh 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 mi spiace ma non ne voglio mi spiace mi spiace per voi ma vi lasceremo così ehm anzi vi lascerò con una mia sparata di coso quindi arrivederci a tutti ragazzi è stato bello parlare con voi e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti oh lasciamo una sparata